È tagliata, però già da come lo stavi andando per chiedere, non so, non era fluido, la transizione fra chiedere il numero e la transizione fra la conversazione e chiedere il numero stonava. Cioè, state parlando e le dite, dai, ok, hai Whatsapp, non era fluida la transizione, cioè dovrebbe essere che state parlando di varie cose e a un certo punto magari chiedere anche dove deve andare se stanno da qualche parte e dopo state parlando da un po' e le fai l'invito per l'appuntento e qua non le hai parlato l'appuntento, quindi anche per quello stonava come cosa. Se sei nuovo qui, io sono Luca, fondatore di approccialla.it, un'azienda di formazione che dal 2018 ha aiutato oltre 1200 uomini a passare da timido o vergine a portarsi a letto nuove ragazze regolarmente. Tutto questo viene fatto tramite videocorsi online, corsi al vivo con dei nostri coach e percorsi di consulenza personalizzati. Quindi, mancava quello, il chiedere se puoi andare in cotto a caffè l'hai fatto, il chiedere che programmi hai non è necessario, poi magari chiedere che programmi hai per i prossimi giorni, però non è per forza necessario quando fai l'invito per l'appuntento. E niente, poi fai l'invito diretto, ipotetico. Io nel prossimo giorno, tanto lo conosci già, l'invito di voi, ipotetico. Non so, te lo sto a rispiegare. Se ci bevessimo un drink nel posto, no, in centro, se ci bevessimo un drink o la cosa che lei ha detto. Sì, stavate parlando, Lidia, non so, di qualsiasi cosa stavate parlando e, non so, magari puoi dire che effettivamente che magari devi andare, non so, ritornare da qualche parte. E io nei prossimi giorni finisco di lavorare alle 18, ma se proseguissimo questa conversazione davanti a un drink qua in zona Duomo, lavoro quando entrambi siamo liberi. Ok, e poi numero. E poi, dai, numero. Hai WhatsApp? Ok, hai WhatsApp? Sì, ok. Qual è il tuo numero? Va bene. Se vuoi scoprire come possiamo aiutarti a passare da timido o vergine a portarti a letto nuove ragazze regolarmente, allora clicca sul link qui sotto in descrizione. Hai domande o dubbi? Scrivi su WhatsApp gratis a un nostro consulente esperto, anche qui trovi il link qui sotto in descrizione. Ciao!